io tanto tempo fa ne fumavo vabbè perché era un periodo un po così 20 30 sigarette al giorno parlo prima della parlo prima però della sigaretta elettronica poi ho fatto tre anni e poi ho finito e ho iniziato le sigarette ne fumo 6 7 al giorno 8 massimo proprio 10 però almeno non arrivo a 20 o 30 nel senso riesco a fare tre giorni un pacchetto david ma si è impazzito una faccia vabbè che ho detto che ho detto perché sta cosa qua mi sa che era già successo detto cazzo che pop cazzo che pop e pop i pop dietro da violette potremmeno tantissimi ha detto ammazza che pop qua